È successo dopo la lite al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, il colpo di scena Giulia e Sonia. Cosa è successo dopo la famosa lite al Grande Fratello Vip 7? Torniamo indietro di un mese, quando le sue si sono colpite con frecciatine al veleno dopo il blocco del reality show dedicata alla storia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalvese. L'appuntamento di lunedì 28 novembre era stato molto movimentato. Molto criticate le parole che Sonia Bruganelli aveva usato contro Oriana. L'opinionista aveva criticato pesantemente il comportamento della Marzoli, e per questo motivo era stata molto criticata sui social. Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che l'emosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante, le parole di Sonia Bruganelli, che avevano scatenato una bufera social. Apprendere le difese. Grazie. 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 Grazie.